Avvocato, le volevo chiedere, secondo lei, quali potevano essere le considerazioni per quanto riguardava Torino e Milan di oggi, ma anche poi, non lo so, quali sono le valutazioni su questo campionato e poi, non lo so, la Juventus, il Napoli eventualmente, cosa pensa? Vabbè, regia di posto, ecco. Ma guardi, lo dico fondamentalmente, credo che Torino e Milan è un partito che non mi è piaciuta per nulla, poi le 0-0 sono comunque partite che poi non hanno mai questo grande verve, questa piacevolezza e quant'altro. Credo che fondamentalmente ci sia una Juventus che tra le inseguitrici, come è sempre stato in questi anni, e io vedo molto molto bene il Napoli là davanti, perché dico il Napoli, dico il Napoli perché ha Ferro Daino, che è un presidente che secondo me nel centro-sud può addirittura fare meglio del senatore Viola, vincendo il 100% dei campionati del Napoli, perché c'è Idola Lodi che a Napoli sta facendo un gran lavoro, sta riportando alla serenità, tra poco controlla anche il numero delle nascite a Napoli, c'è la gente che freme per vincere un altro campionato e poi, non so, c'è un giocatore eccezionale, come dirà Manu Maradona, e quindi abbiamo visto insomma quelle che sono le doti, ci vorrebbe soltanto qui qui c'è nel nostro campionato per cercare di fermarlo, guardi.